Ciao ragazzi e bentornati! Oggi voglio parlarvi di egging, di ricerca delle seppie e dei cefalopodi e voglio presentarvi un'esca che uso da un po', che ritengo veramente eccezionale per questo tipo di predatore però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi quelli che poi saranno i prossimi video ecco via bene come anticipato oggi voglio parlarvi di egging e in particolare della ricerca delle seppie da riva questo è un predatore veramente molto bello anche da catturare, è una pesca molto rilassante da fare in momenti di calma del mare in cui è difficile pescare a spinning e può essere un'alternativa molto valida la cattura di questa cefalopode sicuramente ci farà tornare il sorriso perché sanno davvero farsi valere anche in cucina naturalmente per la ricerca di questi simpatici cefalopodi è necessario utilizzare delle esche apposite, sono riproduzioni di gamberi che hanno delle caratteristiche particolari che consentono appunto all'esca di essere lanciata a buona distanza e di rimanere in sospensione con una determinata inclinazione in modo che risulti effettivamente attrattiva per le seppie io da un po' di tempo da un annetto quasi sto utilizzando i clinch di casa shimano, i clinch flash boost in particolare allora cos'è il flash boost? potete vedere questa lamela nonostante io tenga l'esca praticamente ferma in mano continua a muoversi, è un moto perenne praticamente ritengo che questo dettaglio oltre chiaramente al bilanciamento perfetto al movimento in acqua che risulta molto attrattivo naturalmente per le seppie queste sono caratteristiche quasi comuni con la maggior parte degli eghi di case blasonate ma questo flash boost ritengo sia veramente essenziale per la ricerca delle seppie perché le seppie si pescano con un recupero estremamente lento almeno io le pesco così l'animazione dell'esca deve essere effettuata quasi rasenti al fondo l'obiettivo è quello di sollevare le eghi, appunto, queste esca qui dal fondo questi gamberi, insomma, li si recupera, insomma, rasenti al fondo con tante pause sicuramente in uno di questi momenti di pausa in cui poi procederemo ad un'altra gigata o comunque un altro movimento di atto ad animare, appunto, l'esca il movimento di questa lamella può essere determinante e sicuramente risulta molto più incisivo in questo tipo di artificiale rispetto a esche che magari vengono recuperate più velocemente perché nei momenti di quiete in cui l'esca, insomma, rimane ferma sul fondo con questa inclinazione la lamella fa sì che l'esca appaia in movimento, appaia viva e sicuramente può essere un punto a nostro favore io ora voglio mostrarvi la prima pescata, il primo tentativo che ho fatto, appunto, ad Heking con attrezzatura non idonea perché stavo utilizzando la mia canna da Ultralight avevo la canna in macchina, sono arrivato in spiaggia e ho visto che le condizioni erano praticamente difficili da affrontare anche a Ultralight e ho pensato di lanciare un Heking con la speranza che venisse a trovarmi qualche seppie bene, io vi lascio al video e vi auguro buona visione Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video oggi sono in spiaggia, il mare è meraviglioso, una tavola siamo in autunno ma come se fossimo ancora ad agosto e ho portato con me l'Expride Ultralight perché oggi voglio provare un po' di Heking leggerissimo il clinch Shimano che mi hanno tanto dato soddisfazione l'anno scorso da due e mezzo rientra nella capacità di lancio della canna il finale mi pare sia uno 0,20 ho uno 0,006 frecciato e voglio insomma provare a pescare qualche seppia il periodo potrebbe essere quello giusto per insidiare questo cefalopoda chiaramente bisogna bisognerebbe attendere un po' il freddo perché come se fossimo ad agosto ancora non piove da tanto e tanto tempo però insomma il mare oggi suggerisce un approccio ai cefalopodi e un approccio insomma con i mieghi, con questi gamberi, riproduzione di gamberi e vediamo un po' se qualche seppia ci viene a trovare c'è ancora gente che si fa il bagno comunque si bagna parzialmente il corpo insomma il mare è ancora caldo veramente è un autunno anomalo noi che siamo spinner vorremmo le onde, il freddo, il vento che ci fende il viso però insomma quello che viene ci prendiamo e se il mare è così abbiamo comunque la possibilità di pescare anche le sette e che tanto si fanno valere in cucina insomma da un punto di vista culinario, prettamente culinario credo siano le prede più ambite almeno per quanto mi riguarda, anche più dei calamari per qualcuno forse sto dicendo un'eresia però a me piacciono davvero tante nonostante comunque io ne abbia liberato tante perché poi comunque incide anche la mia inclinazione a essere estremamente rispettoso delle specie marine della fauna marina e quindi quando magari riesco a catturare qualcosa anche che ritengo sia sottotaglia nonostante la seppia sia presente in gran numero nelle nostre coste quindi tendo a liberarla vediamo un po' se oggi decine a trovare qualcosa risultano interessanti questi echi e proviamo a trovare qualcosa di bello e magari se le dimensioni sono quelle giuste se lo portiamo anche a casa il recupero è sempre lo stesso le seppie io preferisco fare un recupero rasente al fondo con qualche piccola gigata atto a sollevare proprio il gig dal fondo poi farlo ricadere, attendere un attimo e magari recuperare qualche metodo comunque un'azione di pesca che si svolge molto molto lentamente ciò amplifica chiaramente la percezione che si ha del fondale se l'attrezzo è estremamente sensibile come in questo caso ora sto pescando con una canna ultra light quindi potete solo immaginare quanto sensibile sia praticamente mi sta permettendo di contare i massi sul fondo se dovesse mai attaccare una seppia la sentirei in maniera molto nitida va bene proviamo se è una zona in cui si incaglia ha 7-8-10 metri d'arriva quindi è meglio evitare un incaglio provare un po' più lontano è un po' più lontano è un po' più lontano è un po' più lontano ecco la eccola qui ho sentito appoggiarsi guardate che bene con la X-prime questo è un ultra light sopra una piccola seppiolina guardate che bella sicuramente questa la rilasciamo piccolina però molto bella veramente molto bella bene si è trattato di una piccola seppia ma in questi casi le dimensioni non contano perché è importante capire se effettivamente ci sono delle conferme se le nostre esche risultano attrattive per quel tipo di specie che si va a ricercare sicuramente sono certo che lo è già stato sia sulle seppe sia sui calamari molto molto attrattiva questo tipo di esca e lo sarà sicuramente anche nei mesi a venire mi consentirà magari di catturare anche pezzi di dimensioni più più importanti l'ho utilizzata anche in kayak sfruttando chiaramente la deriva dello stesso e mi ha dato davvero tante soddisfazioni fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se ritenete anche voi che questo tipo di innovazione questa lamella che si muove di continuo possa davvero fare la differenza sulle seppie penso penso che almeno su questo tipo di pesca veramente questo questa innovazione sia determinante naturalmente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivando la campanellina per non perdervi quelli che poi saranno i prossimi video condividete questo contenuto con chiunque possa essere interessato vi ricordo che in descrizione ci sono alcuni prodotti prima fra tutti il mio sito internet utilizzando il codice sconto pesca 15 avrete diritto al 15 per cento di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo c'è il link del mio libro il buio senza voce si tratta di un thriller se vi va magari dategli un'occhiata c'è il link del mio secondo canale youtube anche lì insomma uno spazio in cui parlo di altre cose se vi va magari ci ritroviamo anche lì e poi ci sono i link dei prodotti che utilizzo di solito pesca rimandano a uno shimano shop quindi qualora voleste acquistare insomma uno di questi prodotti sappiate che poi registrando l'eventuale acquisto nella vostra pagina personale shimano fish network godrete del terzo anno di garanzia niente mi sembra di aver detto tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca ciao